Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio. E' bello sentire queste e vedere queste tre attesamente. Un uomo che ama Dio, ama il suo popolo e non lo negozia. Un uomo che si sa pecatore e fa penitenza. Un uomo che è sicuro del suo Dio e si affida a lui. Davide è santo e noi lo veneriamo come santo. Chiediamo a lui che ci insegni questi atteggiamenti nei momenti brutti della vita. Grazie a tutti.